questo programma è offerto da ben ritrovati con la rassegna stampa di 7 tv anche quest'oggi il nostro consueto sguardo ai principali quotidiani locali e nazionali un'occasione però per presentarvi l'evento di questo fine settimana parliamo della festa della castagna che si terrà a Stio Cilento dal 30 ottobre al primo novembre un'iniziativa che arriva dai giovani di Stio qui con noi c'è l'appunto il giovanissimo presidente della Proloco Pasquale Marotta allora grazie di essere qui con noi Pasquale ecco una notizia che mi davi proprio qualche istante fa qualche istante fa la Proloco è formata tutta da giovanissimi di Stio è un po' atipica tu dicevi perché? è un po' atipica perché appunto siamo tutti giovanissimi siamo tutti quasi tutti studenti universitari che vivono le loro esperienze durante l'anno in giro per l'Italia e poi si ritrovano a fine settembre per preparare questo evento al proprio per omaggiare la nostra castagna la reggina insomma delle produzioni cilentane e per costruire in realtà poi quella che è una vetrina per un piccolo borgo cilentano al quale noi teniamo particolarmente e beh Stio insomma si svolgerà del centro storico perché la castagna? Ma la castagna perché è un frutto molto importante per Stio nel nel corso degli ultimi 50 anni era un praticamente un reddito importante e rappresentava l'economia del 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 borgo cilentano di Stio anche se negli ultimi anni ha avuto un calo però crediamo fermamente che non bisogna fermarsi a questo a questo calo e e quindi la nostra manifestazione paradossalmente negli ultimi anni quando la la castagna ha avuto un calo abbiamo cercato di incrementare di sprigionare tutta la forza che avevamo in noi proprio per portare avanti non solo la manifestazione ma anche un un frutto che è davvero qualcosa di prezioso per Stio. Che edizione è questa? Ma siamo siamo alla trentesima edizione trentesima edizione trent'anni fa non c'eravate voi voi diciamo i vostri genitori quindi avete preso a cuore questo evento per portarlo avanti ed evitare insomma che cadesse nel dimenticatoio come dicevi tu la castagna è un prodotto importante anche per l'economia locale oggi la produzione è un po' calata ecco non abbiamo i dati precisi però c'è una leggera ripresa mi dicevi sì quest'anno rispetto all'anno scorso la ripresa è iniziata quindi significa che il cinipide che è poi la causa principale del di questo calo lo stanno combattendo quindi si sta avendo si stanno avendo dei risultati positivi e quindi si spera che negli anni successivi la ripresa sarà totale allora come si svolgerà la festa della castagna abbiamo detto già dal 30 ottobre al primo novembre tre giorni che cosa prevedono diciamo che il programma nasce da un obiettivo preciso quello di costruire un contenitore nel quale far interagire elementi diversi elementi che possono provenire anche da territori limitrofi asti oppure in alcuni casi anche da più lontani quindi l'obiettivo anche quello di superare la staticità del mero confine stiese e in questo senso è una sorta di ricerca è una sorta di di viaggio nel quale noi le risorse che intercettiamo in questo cammino organizzativo cerchiamo di farle confluire a stio ad esempio quest'anno la manifestazione si aprirà con la presentazione di un libro poi presenteremo il nostro cortometraggio realizzato appositamente per la festa ecco forse la regia marco paese ci sta proporendo proprio qualche immagine che arriva dal video quindi insieme alla castagna la valorizzazione di quello che è il centro di stio con le sue tradizioni storico artistiche culturali eccolo qua e quindi l'obiettivo è quello ospiteremo un una giovane promessa stiese in con la chitarra classica quindi cercando anche di costruire dei contrasti sensoriali l'obiettivo quindi è quello di costruire quello che in sociologia è chiamato milieno un territorio con importanti caratteristiche naturali ma che è contrapposto anche da importanti qualità socio culturali al fine di costruire una manifestazione molto identitaria e durevole nel tempo poi allora c'è l'organizzazione della proloco però dobbiamo ringraziare anche naturalmente gli sponsor ci sono diverse persone che lavorano dietro le quinte che vi danno il loro appoggio faremo i dovuti ringraziamenti da qui a qualche istante allora la regina dell'evento è la castagna però come dire l'occasione è quella di far conoscere stio ed è bello appunto vedere i giovani al lavoro per chi non conosce stio ecco allora come vogliamo presentare questo centro cilentano ma diciamo incuriosiamo un po' i telespettatori cilentani sicuramente conosceranno stio perché ci sono tanti altri eventi anche durante l'estate però ok conquistiamo anche l'attenzione di chi non è mai stato a stio è un credo sia una piccola bomboniera racchiusa in un tra le montagne cilentane ha un centro storico molto molto ben ben curato molto ben strutturato storicamente anche un bel passato alle spalle quindi credo che arrivare a stio ne valga la pena anche perché è bene anche lasciare un velo di mistero perché secondo me scoprire stio mentre lo si sta visitando è ancora più bello ecco è bello vedere ascoltare le tue parole ma guardate proprio questo orgoglio di appartenenza abbiamo aperto questa rassegna ahimè dicendo siamo un gruppo di ragazzi che durante tutto l'anno chi per lavoro chi per studio è costretto ad allontanarsi da stio poi ci ritroviamo per organizzare la festa della castagna questa è una nota un po' dolente perché stiamo come dire parlando di stio stiamo elogiando questo centro lo stiamo un po' raccontando però è chiaro che per i giovani per i ragazzi non ci sono tante possibilità di restare ecco e forse questa è una nota un po' dolente però noi preferiamo la nota positiva battiamo per quella nota e portiamo avanti questa manifestazione allora trentesima edizione è chiaro che quella che si svolgerà tra qualche giorno non è la festa della castagna di 30 anni fa è attuale ci ritorneremo tra qualche istante intanto iniziamo a dare uno sguardo anche ai giornali di oggi iniziamo proprio dal mattino edizione di salerno eccola qua la prima pagina c'è la cronaca niente ambulanza muore in strada il flop della rete dell'emergenza tutti i mezzi con medico a bordo impegnati altrove shock dunque a mariconda 67enne stroncato da infarto dopo una mattinata alle poste mezz'ora a terra senza soccorsi e questa è la notizia di apertura intanto il calcio salernitana torrente oltre la sfortuna questa notte i punti valgono doppio c'è la politica fondi europei di radical d'oro basta bugie l'ex governatore sfida de luca ricatta dice sindaci e comuni al rischio l'abbiamo ribadito più volte 286 milioni di opere poi c'è la giustizia con la tappa cilentana precisamente a vallo della lucania del ministro orlando che ieri ecco ha confermato l'impegno del governo centrale dice potenziali tribunale in sofferenza proprio quello di vallo come quello di vallo poi allarme degrado crolli anche sul lungomare piovono calcinacci giù il solaio in classe e la scuola contributi volontari prati di sotto accuse intanto sempre per quanto riguarda il calcio rosa granata nel regno di valentina e poi salerno italia europa melting pot all'insaputa queste le riflessioni che troviamo in primo piano sul mattino troviamo la notizia di apertura con la tragedia ucciso in strada da un infarto mezz'ora a terra senza soccorsi l'ambulanza arriva da vietre a salerno mancano mezzi medicalizzati alle poste l'uomo ucciso da un infarto ieri mattina si era recato appunto all'ufficio postale di mariconda ancora torrione struncato da un malore e in fila all'ina il l'altro dramma vittima un cinquantotenne di sarno si accascia nell'ufficio gremito paura e sgomento tra gli utenti ed è dunque come dire allarme emergenza giungla di sigle servizi in appalto razionalizzare gli interventi ma il piano non è mai stato approvato dalla regione la formazione malattie e cambiamenti climatici un corso nel segno della scuola medica dunque è cominciato ieri il primo corso di alta formazione su aereo biologia ambiente cambiamenti climatici e ancora incontro annullato sul caso asula la rabbia dei sindacati stop al stop dal sub commissario la cisle denuncia scorrettezze la campagna è ingovernata ma torniamo con pasquale marotta presidente della prologo di stio per presentare questo evento che si terrà dal 30 ottobre primo novembre parliamo della festa della castagna trentesima edizione diciamo quella che organizzate voi oggi non è quella di 30 anni fa quando i vostri genitori hanno avviato questo evento ecco in che cosa si differenzia non ci saranno soltanto le classiche caldarroste insomma però diciamo che cerchiamo di la differenza è quella di cercare di utilizzare quelle che sono le risorse del luogo come dicevo prima e farle convergere in un in quello che oggi un un appuntamento un un se vogliamo vedere l'aspetto romantico della 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 manifestazione anche un momento di ritrovo per chi abita lontano per chi abita in giro per l'italia e utilizza questa manifestazione per rincontrarsi e magari riorganizzare qualcosa o parlare o discutere di qualcosa della della loro vita quindi la differenza sostanziale è che cerchiamo anche di mettere in in vetrina quelle che sono le i talenti le risorse di questo luogo risorse che sono anche nostri coetanei ad esempio penso a manuela al concerto di chitarra classica che è una nostra coetanea brava diplomata al conservatorio che è giusto metterla in evidenza in un contesto del genere e quindi cercare di mettere assieme no come un filo come un ago e un gomitolo che mette assieme tutti i vari tasselli che compongono questo territorio al fine di costruire un ecco una una vetrina importante durevole nel tempo c'è una bella organizzazione ci siete voi ragazzi poi ci sono altre collaborazioni diciamo anche lo sponsor chi vogliamo ringraziare chi vi sostiene ecco innanzitutto dobbiamo ringraziare lo sponsor ed ambrosio casacomforto perché ci sostiene ogni anno e crede in questa in queste nostre iniziative fin da subito fin dal primo giorno di organizzazione lì che ci sostiene e in alcuni in alcuni momenti di sconforto ci anche sollecita ad andare perché non è facile ci sono i momenti di incertezza di scoraggiamento gli ostacoli sono tanti problemi anche quindi bisogna affrontarli giorno per giorno e poi un ringraziamento anche all'amministrazione che c'è sempre vicina il sindaco italiano barbato lo ringraziamo lo salutiamo a distanza ci aiuta e collabora con noi allora dove si svolgerà io sto vedendo un po' la cartina la mappa che avete preparato eccola qui sarà coinvolto un po' tutto il centro storico un bel percorso il diciamo il protagonista è il centro storico poi è lì che si svolge il cammino del gusto l'avete intitolato è una sorta di è una manifestazione che si svolge dalla sovrapposizione di diversi layer c'è il cammino del gusto perché ci sono ben 26 stand stand che poi vengono ubicati nelle vecchie botteghe che un tempo erano le botteghe dei mestieri non so il calzonario si riaprono per l'occasione si riaprono e quasi si sente il profumo di quelle di quei mestieri antichi poi c'è il cammino dell'arte della cultura poiché a Stio c'è un museo un museo archivio di uno scultore anche importante Antonio Trotta poi poi abbiamo una chiesa di diciamo notevole interesse storico abbiamo anche un'altra chiesa dove realizzeremo una mostra fotografica quest'anno e quindi è una sorta di tanti percorsi messi insieme sovrapposti al fine di creare un percorso anche che si modula e si modella lungo il cammino stesso mentre insomma si degustano i vari prodotti si può vedere un cortile importante una chiesa un edificio prestigioso il museo allo stand come sarà preparata la castagna ho nominato prima le caldarrosse però è chiaro che ci sono tanti tanti modi le signore di Stio ecco gli stand sicuramente vedranno lavoro anche le signore di Stio le prepareranno la castagna in tantissimi modi diciamo che io ogni anno noto che con la castagna si può fare si possono fare si possono fare tante tante cose ogni anno scopro un piatto un piatto in più dal semplice dolce dal dolce fino ad arrivare ad un primo oppure ad un antipasto o addirittura ad una salsa fatta con la castagna per condire ma ce n'è per tutti per accontentare insomma tutti i buon gustai allora torneremo con Pasquale la festa della castagna di Stio Cilento tra qualche istante